Mi sembra che le prestazioni sono migliorate un attimo dall'ultimo patch. Una della pioggia. Questa c'è un castello quello là, facciamo un giro, facciamo un attimo. Questa c'è un castello. Questa c'è un castello. Questa c'è un castello. Però c'è strano. Il cavallo. Scusa, c'è uno anche qua. Ah è che non siamo in pendenza. Cosa cerchi, forse posso aiutarti. O ti assicuro che il prezzo è conveniente. Molto bene. Al solito. Il punto sulla mappa. È un luogo che conosco. Beh. A me stanno spendendo i soldi inutilmente. Perché mi sa che è ancora solo quello lì. C'è una grotta. Probabilmente porta qua. Oh. Andiamo a cercare su Google se esiste e se ci sono le foto di questo posto. C'è anche una salita. Tanto di muretto che non so cosa serva. Forse per i carri. Per farli scappare. Per farli schiantare. Per farli schiantare. per farli schiantare. E' una strada. Per farli schiantare. Per farli schiantare. Per farli leggere. Ooh. Beh. mega castello quello però guarda perché non abbiamo un binocolo c'è il ponte elevatoio no ponte lì tutte le mura e dopo c'è un castello in forma e là boom fortificazione su un cino si può buttare da qua per me crepiamo dovrebbe sembrare in mira ma non sono tanto sicuro ma c'è un salvataggio pare che non serve a niente ma comunque meglio fare un salvataggio non tuffarsi ma ma anche se c'è l'estellato no in realtà si dovrà vedere c'è incredibili perché non c'è l'inquinamento luminoso come oggi dove saranno questa cosa qua di fare le lastre così in mezzo è un'uscita questa non mi pare no ce la fa bordo barbarello qua allora non ci sarebbe qua quello qua è il castello di Kaustov ricordo di un sogno a chiunque mi segua ho trovato pace e conforto presso questa sporgenza rucciosa la notte scorsa ho sognato di neplicarmi fin sulla cima e di incontrare l'arcangelo l'arcangelo michele con le sue celeste anima condotto in paradiso devo andare da lui devo facciamo un po' di esplorazione un po' più vera esplorazione questo momento è un posto interessante ci sono in cibo in cibo e coi animali feroci non si non ci scappa se non ci sono in cibo e' un altro po' di esplorazione che si ma che gli abbia un 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 122 non so ma vedi che in realtà non è proprio umanamente possibile però 60 metri che cavolo corrispondono i due segnalini faccia di manstone l'uomo di pietra non c'è nient'altro quindi c'era tutta la salita che andava di qua mmm guarda qua siamo dentro il blood chester shy ah ok qua qua il confine un secondo qua non c'è nient'altro non c'è nient'altro wainsbury trova Ivar a parlare con lui chissà che non so dove cavolo è c'è nient'altro punto anche qua tra l'altro nonostante la sincronizzazione c'è in realtà un posto abbastanza deserto sembra si i miei occhi ma chiave no penso che ci sia anche un manufatto romano presumo dobbiamo vedere questa è una manufatto più carina ok westward è lungo la strada a ovest di l'altro lato deve andare deve essere sbarrato sbarrato tutto sbarrato sbarrato tutto sbarrato 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 Il primo che troviamo chiuso così Oh no Oh no da che ha parlato da ogni forza era una fine 1 dopo le scalerie c'è i serpenti ma non so sono protetti da questi serpenti non è morto ma fargli dire con la frecce le ammazzi con un corpo e ci provi come altre armi prova che qualunque ascia mo io non stavo la testa subito sono fatti i romani in quanto eravamo perché siamo andati inutilmente mi sembra 8 erano 9 forse ma non mi ricordo dobbiamo avere i resti di questo avamposto di venlocan cioè è rimasto niente non eravamo lì prima no è comunque un tesoro ancora comunque Vesperi è lungo la strada a ovest quindi questa questa è una strada a ovest questo è S questo è ovest capito ma in che direzione seguiamo in che direzione parla di non ha molto senso ma cosa perché qua di strada non c'è c'è solo questa in realtà che appunto è a ovest diciamo a perlomeno di questo punto potrebbe essere da queste parti mettiamolo qua da sopra però non ha scudo non solo attaccarlo noi abbiamo fatto lancia non ci abbiamo già più vigore perché non ha attaccato ma io non capisco stessare dei comandi c'è altro affare se sei troppo veloce non c'è altro Questa che fa? Non si spara addosso le cose alluminate E' stato estremamente rapido Bisogna provare la schivata verso lui Cazzo, cazzo, cazzo Dai, ma che cosa cazzo stai facendo? Fai la parata che non puoi fare, tra l'altro Invece di fare le doppie Che strazzi Cosa sei scema? Si droga, cosa che fai? Fai la parata che Fai la parata che Sempre il mio solito problema Comunque, perché se fosse un attimo più lucido Vorrei già andare Di per sé non è niente speciale E' veloce Oh, le frezze Cosa sarebbe qualcosa che si fa? Non avere nemmeno le frezze però Boh, attacca più veloce Che cazzo Così qua, orrizzontale Sono una fregatura Per avvicinarsi Vediamoci Ho messo che non metti di qualcosa E ci riproviamo Peccato Serve meglio anche far scorto di frecce Allora Dovamo andare di là Tant'a metri Ma Allungo la strada A ovest Di resti Qua c'è la cava Quindi non credo che fosse andando giù A meno che non intenda questo Cioè Che va verso ovest A casa mia Questa è la strada La strada ovest Di resti Però forse intende che dire Che devi andare anche a ovest Potrebbe anche essere In effetti qua Boh C'è un posto lì Potrebbe essere quello In effetti Facciamo La strada woo Questa è questa grazia Questa è potente Adesso questo mi appare qua Va a farti frizzere A piedi adesso Aspetta Ok sta sbagliando Devo pulire il monitor in effetti C'è un sacco di macchie La crepa C'è qualcosa di sbagliato qui Divile Prova la chi ha Non tu parai che vengono qua Questa è un sacco di macchie Questa è un sacco di macchie Questa è un sacco di macchie Vabbè ci torniamo Beh non ho messo una freccia che è una E non mi sembra di aver visto nessuna cosa da lanciare Magari ammazzano i tipi per strada Vabbè Non abbiamo già visto come si fa Quindi Torniamo Ammesso che poi sto andando per la strada giusta In teoria appunto c'è un posto Vediamo Se mi vedono non saranno gentili Ok Ok A questo Quindi Segui la strada Overs Un po' ambigua Ma in questo Possiamo Dimentare qualcosa Ma la faccia Di dove ci spettano No Allora